Gli auspici durante la scorsa estate, inutile nasconderlo, erano ben altri. Storia vecchia in ogni caso per i Lions Biceglie. C'è da fare i conti con la realtà, anche perché recriminare per le occasioni perse non ha senso e soprattutto perché il futuro non si può più cambiare. Contano in questo momento dunque soltanto presente ed imminente futuro per i ragazzi allenati da Domenico Sorgentone. Impegnati domani, palla a due prevista alle ore 18, in trasferta contro Recanati nel decimo appuntamento del campionato nazionale di Serie B. I Bicegliesi arrivano all'incrocio con i marchigiani con il seguente ruolino di marcia. Tre vittorie, tutte ottenute con la valigia da viaggio e sei sconfitte. A due affermazioni e quattro punti in più invece la prossima avversaria dei Lions. Da una marchigiana dunque ad un'altra, dalla sconfitta casalinga di domenica scorsa contro Senigallia, a cui si riferiscono queste immagini, alla gara di Recanati serve una scossa in questo momento. Servono punti per la classifica, serve autostima ad un gruppo che con coraggio, determinazione e spirito di sacrificio deve tirarsi fuori da questa fase delicata, possibilmente già domani, con una vittoria al cospetto di una squadra di grande esperienza. Serve soprattutto una prova senza disattenzione e sbavature, come è accaduto in molte delle precedenti esibizioni stagionali. Buone notizie infine giungono dall'infermeria per i Lions. Edoardo Di Emidio, reduce da un lungo stop per l'infortunio, ha ripreso questa settimana ad allenarsi con il gruppo. Coach Sorgentone conta di utilizzarlo almeno per uno spezzone di partita.